Miau! 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 Bentornati a Cronache Bestiali, il nostro spazio interamente dedicato al mondo degli animali. Come sempre parleremo di alimentazione, di educazione e di salute ed andremo a conoscere un'amica a quattro zampe in cerca di famiglia. Bentornati allo spazio dedicato alla salute dei nostri amici a quattro zampe, come sempre in compagnia del dottor Martini. Oggi parliamo delle malattie respiratorie nel gatto. Quali sono le più frequenti? Le malattie respiratorie nel gatto sono prevalentemente malattie di natura virale. In particolare ci sono due virus che danno queste malattie, che sono l'herpesvirus e il calicivirus. Ci sono anche delle malattie batteriche, però sono più rare e di solito vengono fuori secondariamente alla malattia virale. e in particolare la clamidia è responsabile sia di sintomi respiratori che anche oculari congiuntivali. Quali sono i sintomi? Prevalentemente delle prime vie respiratorie, quindi il classico sintomo è il raffreddore. Quindi scuolo dal naso, starnuti, difficoltà nel respirare a bocca chiusa. Nelle forme più gravi questi sintomi possono coinvolgere anche il laringe e la trachea, quindi dare delle tracheiti. In quel caso lì il gatto potrebbe avere anche un po' di tosse, avere un miagolio diverso per colpa della raucedine e poi appunto sintomi oculari con congiuntivite anche serie che addirittura nei gattini possono portare proprio a cecità, a perdere gli occhi. Questi sono i sintomi base. Come si curano? Si curano male perché essendo virali non esistono dei veri e propri farmaci che debellano i virus, quindi si fanno delle terapie antibiotiche per evitare appunto che vengano fuori infezioni batteriche secondarie. E poi si cerca di fare delle terapie di supporto, soprattutto nei gattini, per evitare che smettano di mangiare, che si disidratino. Si può fare dell'aerosol per sfiammarli e cercare di aprire un pochino più le vie aeree, però fondamentalmente il grosso lo deve fare l'animale col sistema immunitario. Tanto che nelle malattie che debilitano il sistema immunitario come la diestra e la leucemia felina spesso i primi sintomi sono proprio queste malattie respiratorie. Ovviamente essendo una patologia virale si deve cercare di evitare il contatto. Si, sono malattie altamente contagiose. Purtroppo spesso è la mamma che trasmette i virus ai gattini perché poi queste sono forme che non vengono mai completamente eliminate dall'organismo. Cioè se il gatto entra a contatto con il virus e ha un sistema immunitario valido riesce a confinare il virus in alcune zone tipo il trigemino per l'herpesvirus, però non lo elimina del tutto. Quindi quando il sistema immunitario funziona peggio, quando c'è un calo dell'efficienza per vari motivi, queste malattie tendono a rivenire fuori. Quindi sono molto diffuse, molto più di quello che si pensi perché anche i gatti che non hanno alcun sintomo però possono avere il virus presente e possono eliminarlo nell'ambiente. Ovviamente si parla di contagio unicamente gatto-gatto. Sì, riguardano solo i gatti. Il cane assolutamente non può ammalarsi con queste malattie. Bentornati allo spazio dedicato alla salute, come sempre in compagnia del dottor Albanese del Centro Dermatologico RT oggi per parlare di prurito. Indubbiamente è una condizione frustrante sia per il cane che per il proprietario, il prurito. Assolutamente, è uno dei motivi principali di consultazione dal dermatologo veterinario. Quando un proprietario vede che il proprio animale, il cane è un gatto, si gratta dalla mattina sera diventa anche un problema psicologico anche per il proprietario oltre che per il povero animale che si gratta. Quali sono le cause più frequenti? Le cause sono molteplici, dalle malattie parassitarie al prurito allergico, quindi dermatite allergica da pulci, le varie rogne per quanto riguarda le malattie parassitarie o tutta la sfera delle allergie anche alimentari o soprattutto la dermatite atopica, cioè la dermatite allergica agli allergeni ambientali. Come si può gestire dunque il prurito? Allora, innanzitutto, per gestire il prurito la prima cosa, la cosa più importante, è quella di ricercare ed eliminare la causa che è generata il prurito e quindi per quanto riguarda le malattie parassitarie ricercare eventualmente una malattia da rogna, una rogna sarcoptica o eliminare le pulci che possono infestare l'animale. Nel caso in cui il prurito fosse legato a una dermatite allergica o ambientale o alimentare c'è un iter da seguire che appunto deve far escludere prima un'eventuale allergia al cibo che l'animale mangia e poi ad un allergenio ambientale. Il prurito è dunque un sintomo o è una malattia? Il prurito è un sintomo riconducibile a tantissime malattie e quindi può essere gestito come sintomo ma non dobbiamo dimenticare di andare a ricercare la causa sottostante che lo ha generato perché molte volte si tende a coprire il sintomo, dare un sollievo temporale al animale ma se non si rimuove la causa sottostante il prurito tornerà sicuramente. Esistono dei farmaci per riuscire a controllare questo sintomo che è il prurito? Esistono farmaci, gli antistaminici sono poco usati negli animali perché non sono molto attivi contro il prurito esistono una serie di immunomodulatori che sono molto molto efficaci o ultimamente sul mercato sono stati anche immessi degli anticorpi monoclonali quindi dei farmaci che sono selettivi e vanno a agire contro alcune sostanze che generano il prurito. E' alle porte di Arezzo in località Sant'Anastasio che Nikos Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento Nikos Dog Village è una osi di verde nella campagna retina ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo l'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia con marche che non trovi da altre parti perché Etruria Pet Food per consigliarti l'alimentazione appropriata unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food è vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo in via Carlo Pisacane 65 Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197 Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza Simone Grotti a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197 Un educatore esperto a NC Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione Simone Grotti a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197 Ben giornate allo spazio dedicato all'addestramento siamo come sempre in compagnia di Simone Grotti che oggi ci parlerà di utilità e difesa Allora, l'utilità e difesa intesa come ENCI parliamo di selezione caratteriale del cane quindi non è uno sport per tutti i cani solamente quelle razze che hanno una selezione caratteriale di questo tipo Quali sono? Sono tutte razze del gruppo 1 e del gruppo 2 quindi pastori e molussoidi Tra questi ci rientra il pastore tedesco il pastore belga il pastore del Bausch o anche noto come Bausch Ron il Rottweiler il Doberman il boxer il pastore svizzero il cane corso Overworth diverse razze più o meno conosciute la massima espressione l'abbiamo tra il pastore belga sul malinois e nel pastore tedesco con le linee da lavoro pastore tedeschi grigi, neri, neri fuocati già un po' meno perché c'è molta più bellezza lì e lì parliamo di selezione caratteriale la famosa Ipo lì come ogni sport si suddivide i livelli quindi si parte dal livello più basso di tutti come esordienti l'utilità difesa ha come prima prova il BH che è una prova di stabilità caratteriale la stabilità caratteriale si continuerà a verificare su ogni fase di ogni brevetto che per controllare che il cane sia sempre un cane comunque sia gestibile che possa stare in società ecco ma di cosa si tratta? allora si tratta di una parte il BH consiste di una parte di obbedienza una parte in cui il cane sta legato cammina al fianco del conduttore e si muove in linea retta torna indietro cambi di velocità quindi prima corsa poi lento poi nuovo normale angoli retti destra e sinistra e un gruppo passare in mezzo a un gruppo di persone disegnare un otto fra le persone che deve stare leggermente in movimento dopo stessa sequenza viene ripetuta col cane senza guinzaglio il cane segue il padrone stando sempre vicino non deve allontanarsi e dopo senza guinzaglio segue anche i fissi i fissi si intende seduto e resta e terra e resta con chiamata nel fare questo c'è un altro cane ha messo a terra distante 20 passi dal proprio conduttore che osserva l'altro cane lavorare senza muoversi finita la fase si scambiano e continuano dopo questo se passi questa fase qui accede alla fase urbana quindi ci si sposta dal campo di addestramento si va in città in qualsiasi tipo di ambiente può variare a seconda di chi organizza e si va a vedere il cane in eventi che possono succedere quindi la persona che ti si ferma ti chiede l'indicazione o ti chiede l'orario in cui devi interagire il passaggio di biciclette la macchina il passaggio della macchina chiuso del sportello il carrello il passeggino è molto variabile il regolamento non prevede troppe cose fisse non ci sono l'atteggiamento del cane deve essere tranquillo non mostrare le tene di nervosismo alcun tipo di aggressività e così può superare questa prima prova caratteriale se non superi questa prova entro tre volte che la fai non puoi accedere dopo verrà verificato attraverso la lettura del microchip la lettura del microchip vuol dire che tu padrone del cane tieni il cane non lo puoi tenere forzato più o meno non troppo quindi il massimo che giù il massimo che io posso fare è tenere questo e il cane si lascia leggere il microchip da un perfetto sconosciuto il lettore del microchip avviene muovendo il lettore sul collo il cane deve restare stabile viene fatto prima delle fasi o immediatamente dopo cosa vuol dire se prima della pista il cane magari mi ha concentrato scompongo con la concentrazione può essere più o meno irritabile prima dell'obbedienza o dopo quindi solo la fase di stanchezza nella fase di attacco quella un po' più delicata in cui si vede meglio la stabilità reale del cane poi l'utilità di difesa si divide per l'appunto in tre fasi pista quindi è una ricerca di odore umano a terra molto precisa quindi il cane deve seguire orma orma e segnalarci degli oggetti poi l'obbedienza è un'obbedienza sportiva in cui deve fare una serie di esercizi molto più complessi di quelli del BH con più precisione sempre libero il cane e poi è una fase di attacco in cui è una simulazione della cattura di un malintenzionato quindi nasce proprio da quello poi si è sviluppata e adesso serve per valutare la capacità di affrontare chi ha il cane di affrontare l'uomo di affrontare le situazioni il coraggio la tempra si valutano tante cose qual è l'utilità per il cane di questa disciplina sportiva? l'utilità di difesa si è cambiata tanto nel corso del tempo inizialmente serviva a vedere che il cane era capace di lavorare di stare in situazioni di tipo militare perché nasce da quello dall'addestramento militare quindi ti permetteva di vedere che il cane sapeva quanto sapeva ubbidire quanto sapeva resistere sopportare gli stress legati a quelle situazioni di lavoro reale da esercito adesso è cambiata quindi si vuole vedere la massima espressione del cane sia in condotta che in pista che in attacco ciò vuol dire che il cane deve essere sicuro di sé non deve mai essere aggressivo però deve essere sicuro dominante e felice di fare quello che fa perché se il cane non è felice di fare quello che fa ti viene decurtato completamente il punteggio e vai sulla sufficienza se te la danno perché alcuni giudici ormai non te la danno nel 2019 cambierà il regolamento e non potrai più fare niente cioè il cane o ha l'orecchia su e la coda su oppure non va bene Bentornati allo spazio dedicato all'alimentazione oggi per parlare di integratori alimentari nel caso specifico per quanto riguarda le ossa di cosa si tratta? Sì, buonasera allora per quello che riguarda gli integratori per ossa e articolazioni parliamo nel mondo dei condor protettori i condor protettori ha una differenza diciamo di antidolorifici e tutto sono delle proteine sono degli elementi come la cozza verde irlandese come artiglio del diavolo che vanno a influire proprio e rafforzare i legamenti ossa e articolazioni specificatamente del cane per condor protettori appunto il nostro condor protettori noi ci avvaliamo della Dottor Claudre che è un'azienda leader nel settore usa molto la cozza verde irlandese la cozza verde irlandese unita all'artiglio del diavolo fa sì di rafforzare le cartilagini in modo da avere molta più mobilità molto importante sono nei pastori monossoidi diciamo come principale il pastore tedesco che purtroppo per genetica molti sono displasici ecco il condor protettore riesce appunto a sopperire un po' alla carenza della displasia purtroppo da displasia non si la cura non esiste non si guarisce ma un condor protettore adeguato con la posologia adeguata e con i tempi adeguati riesce siamo riusciti insomma a rimettere in piedi molti animali molti cani ovviamente anche per quanto riguarda i cani anziani assolutamente sì quasi tutti ovviamente per anzianità purtroppo i problemi di cartilagine specialmente a livello proprio di giunture normale come fine vita abbiamo appunto delle carenze quindi il cane magari si può sedere il cane ha poca voglia di correre il condo protettore riesce un po' a sopperire tutto questo perché proprio interviene con il principio attivo proprio specificatamente sull'articolazione rendendola un pochino più diciamo dura e un pochino più resistente in modo che il cane accusi meno dolore perché il problema principale appunto della displasia o dell'anzianità in questi casi non è proprio sulla fine della cartilagine ma è proprio per lo sfregamento e quindi del dolore ecco perché il cane spesso anche se l'imperlin non ce lo fa capire o ce lo fa vedere tende tendenzialmente ad accucciarsi proprio perché fa fatica e sente dolore proprio nel camminare il condo protettore riesce un po' a sopperire a tutto questo purtroppo anche lì un cane a fine vita è un po' ritornare giovani però ecco si dà una bella mano soprattutto per quanto riguarda anche la terapia del dolore ecco ci sono varie tipologie assolutamente sì tendenzialmente la distinzione va fatta proprio anche come posologia cioè nel senso ci sono a pasticche ci sono o ci sono in polvere oggi per dire noi ci avvaliamo dal dottor clauder l'ultimo ritrovato è in pellet che è una formulazione molto più appetibile perché purtroppo qualche volta capita spesso che di solito un controprotettore unito a delle crocchette insomma o al cibo che il padrone dà magari risultava un po' che non rende più appetibile il cibo quindi il pellet ed è arricchito con una farina molto leggera di una proteina animale che potrebbe essere nel nostro caso usiamo l'agnello quindi per appetizzare anche anche quello e soprattutto anche come come posologia perché il condo protettore tendenzialmente vanno fatti dei cicli si fanno dei cicli meglio noi consigliamo sempre di fare dei cicli ai cambi di stagione dove il cane accusa di più appunto questi sintomi e sarebbe sempre meglio usare un controprotettore o qualsiasi di marche e tutto sempre per 20 giorni e fare uno stop di una settimana in modo che sia il fegato sia che il sistema immunitario ha la possibilità di recuperare e di assimilare di più è alle porte di Arezzo in località Sant'Anastasio che Nikos Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento Nikos Dog Village è un'osili verde nella campagna retina ideale per l'allevamento e la pensione Etruria Pet Food in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo l'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia con marche che non trovi da altre parti perché Etruria Pet Food per consigliarti l'alimentazione appropriata unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni Etruria Pet Food vasta gamma di accessori integratori antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a 4 o 2 zampe Etruria Pet Food ad Arezzo in via Carlo Pisacane 65 Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a 4 zampe? Simone Grotti Pieve Amaiano Arezzo 338 500 7197 Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338 500 7197 Un educatore esperto a ecisport ed un addestatore che nella sua professione mette esperienza e passione Simone Grotti a Pieve Amaiano Arezzo 338 500 7197 Torniamo a parlare di adozione abbiamo già parlato di come accogliere un cucciolo di cane oggi invece parliamo di come accogliere un cane adulto ecco come si fa? Allora le raccomandazioni di essere pronti rimangono per il cane adulto e per il cane cucciolo quindi dobbiamo deve essere sempre una scelta ponderata il cane adulto una cosa bellissima innanzitutto adottare immaginandosi di adottare un cane adulto magari da una situazione particolare o da un canile è un'esperienza che invito a tutti di fare innanzitutto il cane adulto ha dei vantaggi addirittura cosa che sembra che quando lo dico sembra che dica una cosa bestiale assolutamente no il cane adulto ha già tutta una serie di informazioni che sul piano caratteriale che possiamo valutare per capire se quel cane è un cane giusto per la nostra abitudine per la nostra famiglia per il nostro ambiente e per tutto per noi in poche parole spesso viene detto una frase che è per me bestiale prendo un cucciolo perché poi lo tiro su nel senso lo faccio crescere come mi pare ho avuto esperienze che purtroppo sono state molto negative perché il cucciolo bisogna sì tirarlo su lo tiriamo su noi ma non sempre ci accorgiamo che stiamo facendo degli errori enormi e ne paghiamo le conseguenze quando poi questo cucciolo diventa grande a due anni un anno e mezzo due e ne paghiamo le conseguenze allora il cane adulto invece ha tutto ripeto una serie ha già un carattere abbastanza formato spesso perché ripeto il carattere del cane si forma a grandi linee intorno a due anni e possiamo sapere se è un cane già sociale con gli altri cani se è un cane che può stare insieme per esempio ad un gatto in una famiglia come si comporta con i bambini quanto è sociale quanto è impaurito quanto è aggressivo chiaramente abbiamo tutta una serie di informazioni e poi tutte quelle informazioni che sono più intime diciamo così che fanno sì che ti fanno in un certo senso scegliere quel cane rispetto a un altro io dico sempre che poi quando si adotta un cane immaginandosi di adottare parlo di un canire ad esempio beh poi fra quei cani che diciamo così possono andare bene sul piano caratteriale c'è quello che scatta una scintilla e te lo devi assolutamente devi condividere assolutamente la vita con con quel cane ecco ovviamente il cane adulto richiede delle accortezze in più soprattutto se abbiamo già altri animali in casa richiede sì delle accortezze in più sì se abbiamo già gli altri cani altri animali sì abbiamo già detto che può essere comunque molto vantaggioso perché sappiamo già fin da adesso che è un cane che è giusto per quella situazione dobbiamo anche poi pensare a come potrebbe essere ecco quando abbiamo un altro animale in casa un altro errore che viene fatto praticamente sempre che è assolutamente bestiale ripeto il termine ho già usato i cani si devono conoscere i cani che in futuro immaginiamo che dovranno vivere insieme si devono assolutamente conoscere più volte in un luogo che io chiamo neutro che vuol dire un luogo neutro non possiamo mettere il nuovo cane nell'ambiente del vecchio cane o del vecchio cane inteso come il cane che è già in casa perché perché partiamo male nel senso che partiamo con un conflitto chiaro perché bene o male qualsiasi cane chi più o chi meno ha un senso di territorialità e che viene invaso che noi facciamo invadere dall'altro cane che brutalmente di cui io portiamo in casa no un luogo neutro vuol dire tipo un centro sinofilo comunque dei spazi grandi dove i cani si possono incontrare conoscere magari più di una volta anche lì un occhio di un buon educatore può già notare se possono esserci dei conflitti oppure comunque come stanno comunicando i cani e vi possono aiutare a dire guarda forse sì o forse ci potrebbe essere qualche problema in futuro e dopodiché addirittura l'ingresso il primo ingresso che dovranno fare i eventuali due cani in casa dovrà essere insieme nel senso dopo che sono conosciuti più volte in un campo neutro come abbiamo detto la passeggiata l'ultimo dico ad esempio chilometro per arrivare in casa lo dovranno fare insieme da fuori entrare dentro mai mai e poi mai fare entrare il nuovo cane nel territorio dell'altro cane senza aver fatto questo procedimento Bentornati allo spazio dedicato alle dozioni come sempre al canile comunale di Arezzo gestito da LEMPA oggi per conoscere una gattina Cleo chi è Cleo? Allora Cleo è una gattina di circa due anni è stata trovata incidentata per strada molto probabilmente investita da una macchina aveva tre zampe su quattro hanno riportato lesioni molto importanti soprattutto erano piene di vetri e la gattina era una pozza di sangue i veterinari sono riusciti a salvare due zampe l'altra zampa purtroppo si è reso necessario fare un'amputazione ecco adesso i punti verranno tolti e poi insomma tornerà a camminare normalmente sì lei è testata è negativa l'ADS la lucemia felina è stata sterilizzata e una volta tolti i punti lei può trovare un'adozione sarebbe meglio in un appartamento comunque anche in una casa col giardino però dove non riesce a scappare perché se scappa essendo una tripode può trovarsi in difficoltà è una gattina molto tranquilla molto affettuosa inizialmente è un po' timorosa però è molto brava non ha problemi neanche con gli altri gatti con gli altri cani? neanche dei cani ovviamente ci vuole il cane che sia abituato ai gatti che non la vada a inseguire a darle noia chiunque volesse adottarla può come sempre rivolgersi a voi sì può venire qui a conoscerla anche per oggi è tutto l'appuntamento come sempre alla prossima puntata ciao